Amici di Tutto Venezia Sport e dei Fuoricampo, buonasera e ben ritrovati con questo nuovo video. Qui ho sottoparlato come sempre il vostro Davide Marchiol per fare il punto della situazione in casa Venezia. Oggi parleremo alla luce della vittoria dei Leoni che tornano a gustare un successo dopo due mesi, circa, forse qualcosina di più, due mesi e mezzo, due mesi e mezzo. Questo era a metà novembre e dopo dieci giornate, per essere così precisi, successo è arrivato contro il Torino per 2-1 in quel di Torino. Prima di cominciare ovviamente vi invito a iscrivervi al canale se vi piacciono i nostri contenuti, supportateci, siete in tanti che lo stanno già facendo, continuate ad aumentare, a far girare di più i nostri video, mettendo un like, anche se siete già iscritti, ricordatevi, premete quel pulsantino a forma di pollicione. Se vi va lasciate anche un commento, come vedete io dibattiamo con tutti quelli che commentano, in modo costruttivo ovviamente, è una forma per noi, per interagire con voi, e voi, oltre ad interagire con noi, ci permettete anche di far girare di più il nostro video sulle viare piattaforme tuttoveneziosport.it, ovviamente, non mi dimentico, sito dove mettiamo 24 ore su 24 tutte le news in casa a Venezia e le principali news del mondo Reier, quindi basket, squadra orogranata, Facebook e Instagram, tuttoveneziosport, senza il punto it. Detto questo, Venezia che vince contro il Torino, 2-1, gara difficilissima, perché affrontavi una squadra che in casa viaggia a ritmi da primissimi posti in classifica, una delle difese meno battute del campionato, solo 23 gol subiti. Gara che affrontavi, sì, il Toro aveva tre assenze pesanti, perché comunque senza Pratt, senza Lukic e senza Mandragora è pesante per il Toro, perché comunque sono tutte e tre assenze nello stesso più o meno ruolo, quindi scelte abbastanza obbligate per Juric, ha rispolverato anche un Linetti che sembrava ormai fuori dal giro prima squadra, però anche il Venezia dal canto suo ha avuto tante assenze. Mancava Ceccaroni, Mancava Kin, Mancava Vacca, Mancava Ulman, no, ma Ulman non era il top, Mancava Mateju, e sicuramente, ah sì, mancava anche Romero, che è in Argentina per la nascita del quarto figlio, e Dulcis in fundo, mancava anche Modolo, perché il capitano che doveva prendere il suo posto a fianco a Caldara ha avuto un problema alla schiena, ha accusato un problema alla schiena nel corso del riscaldamento e quindi è stato panchinato mentre doveva giocare il titolare e quindi abbiamo rivisto Svoboda, tra l'altro messo con un piede destro a fare il difensore centrale sinistro. C'erano tutti i presupposti per, insomma, l'ennesimo motivo di rattristarci e per come è iniziata la gara, francamente, le cose si sono fatte subito difficili e preoccupanti perché, scusatemi, se è vero che il toro parte sempre forte, è anche chiaro che capitolare subito dopo quattro minuti per l'ennesima volta faceva temere che il leitmotiv potesse essere più o meno sempre lo stesso. Quindi, Venezia che capitola subito, sui eventuali colpi dei lezzerini non lo so, cioè comunque la palla la prende, è una saettata, gli rimbalza male, cioè sembrava per concatenazione di circostanze dovesse ancora una volta girarci tutto storto come troppo ultimamente sta accadendo. E' un Venezia che per la prima mezz'ora è stato brutto, brutto, perché se è vero che per 15 minuti il Torino viaggia ad altissimi livelli, poi è anche vero che magari il Torino cala leggermente su... a lungo andare il Venezia però con quel 4-3-1-2 sembrava non avere alba di cosa fare. Zero tiri in mezz'ora era un numero che faceva pensare veramente al peggio, veramente al peggio, perché non si vedeva come potesse venirne fuori il Venezia e qui ci ha messo lo zampino Zanetti. Perché ha modificato il suo schieramento iniziale che era molto ovvio e logico. Era molto ovvio e logico la luce delle tante assenze, perché uno può dire che magari si poteva partire con la difesa 3 fin da subito, però alla luce dei tanti difensori assenti vediamo è un po' difficile pensare di rischiarsela fin dal primo minuto, non era una decisione proprio semplicissima. Diciamo sarebbe stata una situazione, non dico inedita, ma quasi. Cioè Ampadu oggi ha fatto la prima gara del difensore centrale della sua carriera a Venezia, sostanzialmente, per dirne una. Però non andava così, non funzionava. Era palese, Busio da play, non ha i tempi per fare il play da Serie A, c'è poco da fare, ancora. Però magari probabilmente li avrà in futuro, ma non può fare il regista classico. Infatti alla vacca si abbassava, però non riusciva a fare quello che faceva la vacca, ovvero abbassarsi, però poi palla al piede, uscire, scaricare e far partire l'azione. Non ha ancora quella personalità e quella sicurezza lì, evidentemente. Esattamente come Aramu, dietro a Occherec e Denry sembrava francamente abbastanza sperduto in mezzo alle maglie avversarie, e lo stesso Occherec non capiva bene come aiutarlo. Mancavano tutte le misure. Haps non riusciva a scendere, a trovare l'uno contro uno. Il Venezia cambia tutto, cambia l'inerzia, quando Zanetti opta per il passaggio alla difesa 3. Al 3-4-2-1 o 3-4-3, a seconda dei punti di vista, nel modo di posizionarsi di Occherec e Denry. Aramu. Il passaggio alla difesa 3 ha permesso al Venezia di giocare più a viso aperto, perché avanzando Busio qualche metro in più finalmente abbiamo iniziato a vedere Busio, che insomma sicuramente non era diventato scarso improvvisamente, evidentemente era solo una questione di posizione. Abbiamo cominciato a vedere anche la qualità di Kuisan, sopra la quantità, e soprattutto le due corsie esterne hanno cominciato a funzionare un po' di più. Cernigoi ed Eapsal hanno iniziato a fare un attimino ad avere qualche duello in più. Chiaro, giocarsela con i duelli 1-1 contro il Torino era pericolosissimo, perché al primo duello perso ti ritrovavi un attacco formato da Brecalo, Piazza e Sanabria sostanzialmente in un 3-3, però fortunatamente il Venezia di duelli ne perde pochi, perché ci mette più garra. Ci mette quella garra che il Toro perde con lungo andare dei minuti. è stata lì abbastanza la chiave della sfida, perché a livello, se andiamo a guardare nel totale, di palle goal create, non è stata esattamente la parità più produttiva della storia del calcio. Ecco. Il goal del pareggio arriva alla termine di un'azione corale splendida, perché fa vedere comunque come la squadra, se vuole, se ci mette il coraggio, se ci mette la voglia, la grinta e la garra, la qualità ce l'ha, perché Cuisance ha fatto un ottimo passaggio lungo per Occhereke, che a sua volta trova un ottimo scarico filtrante per Sernigoi, cross sul secondo palo, inserimento di upscolpo di testa rete. Quattro giocatori che hanno i mezzi per stare in questa Serie A, però devono farli vedere. Devono farli vedere, e oggi, appena è stato trovato il cannovaggio giusto, li hanno fatti vedere. Nella ripresa, stessa cosa, avvio più grintoso del Venezia rispetto al Torino, e Aramu mette veramente una palla splendida per un Cernigoi, che oggi è in giornata di grazia, veramente, le poche volte che ha potuto tocchiare qualcosa per tramutarlo in altro, l'ha tramutato in oro, con un gol di Mancino, che tra l'altro non è neanche il suo piede splendido, perché lì, come ci sarebbe mai arrivato, anche il movimento è stato ottimo per liberarsi dalla marcatura, e poi tanta sofferenza, tanta sofferenza, ma quello ormai siamo abituati al Venezia. Per quanto riguarda la questione legata agli ultimi minuti, come sempre vi dico, quando c'è qualcosa che è della discrezionalità dell'arbitro, cioè lì, sul colpo di testa di Belotti, l'arbitro var, perché guarda lì né giù, non erano della stessa opinione, l'arbitro var decide che Pobega è in posizione attiva, e francamente, disconnessione dall'arbitro, attenzione, tecnicamente anche quello di Gekosu, di Gekosu modulo, è la discrezionata dell'arbitro, però intendo ovviamente entro certi parametri, senza un occhio mezzo spaccato da parte di un giocatore. qua c'è stata una trattenuta vicendevole tra Caldara e Pobega, Caldara probabilmente comunque non si sarebbe mai arrivato su Belotti, però il fatto che Pobega provi quantomeno a trattenere Caldara fa propendere l'arbitro var per l'annullamento di un gol che sarebbe stato una mattonata in testa per il Venezia perché un 2-2 preso dopo una prestazione così, sicuramente, parlo lato psicologico, non lato meditava uno in questa gara, meditava l'altro, lato psicologico per il Venezia sarebbe stato veramente molto molto pesante perché i tre punti che mancavano da tanto tempo li avresti di nuovo solo sfiorati. Quindi, diciamo, ti è andato bene l'episodio, ce lo teniamo, e bene così, insomma, peccato per il Toro perché comunque la sconfitta alla fine per quanto ho visto tra le due squadre francamente è pesante come è molto pesante come sentenza e comunque anche il Toro non è che abbia demeritato più di tanto, ha prodotto quanto il Venezia nel bilancio finale delle due squadre. Poi bisognerà fare anche la conta post partita perché Lezzerini ha riportato questo problema muscolare e ci ha giocato sopra tra l'altro perché Zanetti aveva finito aveva finito i cambi aveva fatto già tutti i cinque cambi nei tre slot per evitare tracolli dovuti alla stanchezza e in più c'è una squalifica Occhereche che anche qua decisione del VAR molto molto ma nel senso che francamente lì non era né cartellino per Linetti come inizialmente c'è detto da Giuha non era tanto meno cartellino per Occhereche come poi deciso dal VAR perché è uno scontro dove i due guardano la palla vanno tutti e due sulla palla si fanno male perché lo scontro c'è ed è duro non ho visto francamente né intenzione né cattivere da parte di entrambi decisioni va il grande protagonista di quello che è il recupero credo più lungo nella storia della serie A batte anche un recupero di un Watford Everton che ho visto qualche anno fa durato 12 minuti perché causato tra l'altro non dal VAR ma da due infortuni molto gravi nel Watford 14 minuti credo sia record forse europeo ma quasi sicuramente italiano ma lo scopriremo più lo scopriremo nei prossimi giorni tramite le statistiche detto questo ci vediamo forse a metà settimana vediamo con un video per partita visto che la partita con il Genoa avrà un peso specifico enorme per la stagione del Venezia in ogni caso comunque ci vedremo sicuramente post gara scontro salvezza per quanto riguarda il Venezia e per quanto riguarda noi ci vedremo post gare di Roma e Udinese detto questo non mi resta che ringraziare per l'attenzione un saluto e sostanzialmente buonanotte se state guardando all'uscita del video oppure buona domenica se state guardando ad alba ad assolo è tornato nel cielo ciao